Le medaglie olimpiche festeggiate a Maranello, a casa della Ferrari, e fra loro naturalmente le farfalle tricolori, accompagnate da Emanuela Maccarani e dalla direttrice tecnica nazionale Marina Piazza. Una giornata speciale in nome della passione e dell'amore per lo sport. Dopo l'esibizione di Giancarlo Fisichella a bordo della monoposto in Formula 1, Elisa Santoni e Elisa Blanchi, Angelica Savraiuk, Rumina Laurito, Marta Pagnini e Andrea Stefanescu hanno visitato i box Ferrari, accolte dal presidente della casa del cavallino rampante Luca di Montezerro. Questi ragazzi che cosa vanno? Cos'hanno qui? Tutti? Una squadra. Complimenti. Grazie. Grazie. Prima di ripartire, per tutte, un giro sulla pista di Fiorano, accompagnate dai collaudatori della Ferrari, a bordo della 458 Spyder e della F12 Berlinetta. Spettacolo, ha detto che Massimo abbia raggiunto 2,42, quindi bellissimo. Bellissimo, bello bello, mamma mia. Adrenalina ragazzi. Figata. Finite? Spettacolo. Chi tocca? Marta? Molessi. Bellissimo, sì. Allora? Ci vuole coraggio per guidare le macchine del genere. Com'è? Bellissimo. Bellissimo. Bella bello. Sì, sì, sì. Insomma, una bella giornata per festeggiare la vera eccellenza italiana. Bellissimo. 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 Grazie a tutti.